L'ente Foreste della Sardegna, istituito nel 1999 in seguito alla soffressione dell'azienda Foreste Demaniali della Regione Sarda, gestisce attualmente oltre 220.000 ettari di territorio regionale ed ha come scopo primario lo sviluppo e la valorizzazione del patrimonio forestale e faunistico della Sardegna. In ambito forestale, gli sforzi sono incentrati a garantire la tutela e la fruibilità delle foreste sarde attraverso opere di sistemazione idraulico-forestale e di rimboschimento. Per la tutela del patrimonio forestale assume enorme importanza l'attività di prevenzione e di lotta agli incendi, fenomeno che nell'isola ha assunto dimensioni impressionanti e contro il quale l'ente concentra attualmente gran parte delle proprie risorse. In ambito faunistico, gli obiettivi sono incentrati verso azioni volte a preservare tutte le specie animali ed in particolar modo quelle autoctone a rischio di estinzione, come ad esempio il Cervo Sardo. Parallelamente, l'ente è impegnato nella creazione e nella diffusione di una cultura che contempli valori naturalistici, storici e culturali propri della Sardegna. Un obiettivo indispensabile questo per formare una coscienza collettiva tesa alla realizzazione di uno sviluppo sostenibile nell'isola che promuova il mantenimento di zone rurali, vive e dinamiche sviluppandone l'economia e valorizzandone le specifiche risorse. Uno dei progetti strategici intrapresi dall'ente foresta in tema di valorizzazione e di fruizione del patrimonio naturalistico dell'isola è la progettazione e realizzazione di una rete di sentieri articolata in diversi ambiti del territorio sardo. L'avvio della creazione di un'unica rete sentieristica regionale rappresenta infatti un'ottima occasione per far conoscere al visitatore le facce meno note dell'isola e del suo patrimonio ambientale, storico ed umano. Un patrimonio tutto da valorizzare, con una rete coerente di percorsi che guidano l'escursionista attraverso la natura, i paesi, i luoghi storici e della memoria, le tradizioni. L'escursionismo diventa così un modello di sviluppo turistico alternativo e sostenibile, capace di creare un indotto che coinvolge e rilancia soprattutto le comunità rurali, fungendo da volano per i settori dell'artigianato e della ricettività turistica. Il progetto è inserito nel programma operativo regionale 2000-2006 all'interno delle misure sull'ambiente e in particolare nell'azione per la valorizzazione ecologico-sociale del patrimonio naturalistico e rurale. Sono stati ripristinati circa 600 chilometri di sentieri nel Genargento, nel Guilcer Barigado Mandrolisai, nel Supramonte Ogliastrino, nei Tacchi d'Ogliastra e Eglesiente, in Barbagia, nelle Baronie e nel Goceano, nel Cerrei, nella Barbagia di Seulo e nel Sarcidano, coinvolgendo circa 36 amministrazioni comunali e avviando un'intensa e proficua collaborazione con i volontari del Club Alpino Italiano. In queste zone sono stati realizzati interventi di ripristino e messa in sicurezza dei tracciati, creazione di punti di sosta e recupero di sorgenti. Tutti i sentieri sono stati dotati di un'esaudiente segnaletica verticale ed orizzontale, in accordo a standard escursionistici riconosciuti a livello europeo, con cartelli comprendenti le informazioni relative al sentiero e ai tempi di percorrenza. Per la divulgazione dei risultati del progetto e per garantire la massima fruibilità dei percorsi, sono state realizzate una brochure illustrativa e 12 cartine escursionistiche, nonché un'apposita sezione del sito web dell'ente www.sardegnaforeste.it, in cui è possibile scaricare in formato digitale sia i video che le carte e le brochure di ciascun ambito, e visualizzare le sedi dove è possibile acquisire tale materiale. Grazie per la visione!